aiutando gli altri aiutate voi stessi così come aiutando voi stessi aiutate gli altri perché più siete forti e più siete vicini a questi discorsi e li sentite vostri e più siete in grado di metterli in pratica dunque non trascuratevi non trascurate quelle energie di screzio che potete inviare o che potete ricevere semplicemente uscitene dal giro siate fuori da certe energie fatelo con la vostra volontà di farlo fatelo aiutandovi con i vostri pensieri potete ad esempio trovare un pensiero che sia sempre lo stesso in grado di riportarvi ad una certa serenità ad una data dimensione proprio nel momento in cui vi sembra di perdere quella serenità aiutatevi con i mezzi che avete non disprezzate la vostra mente perché vi può essere utile in tante circostanze e può aiutare il vostro cuore ad essere sempre più presente nella vostra vita continua a 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